Amici di Primo Canale, bentornati a questo aggiornamento delle previsioni di Trevi Meto per la giornata di lunedì che sarà piuttosto variabile sul Levante Ligure dove al mattino sarà possibile anche qualche acquazione e qualche pievasco ma poi un rapido allontanamento col passare delle ore. Entrar più nel dettaglio partendo da Imperia, qua il tempo rimarrà bello tutto il giorno, magari un po' di variabilità sulle Alpi Marite ma per il resto poco da segnalare, temperature abbastanza miti, anche su Savone Provincia giornata di sole, un po' di vento, un po' di vento dai quadranti meridionali, quindi mare localmente mosso ma per il resto giornata molto piacevole. Su Genova Provincia invece un minimo di variabilità al mattino la dobbiamo mettere in conto con magari anche qualche locale più vasco ma davvero in rapido allontanamento quindi già in mattinata torneranno delle belle aperture. Invece sul Tiguglio bisogna avere un pochino più di pazienza, solo in tarda mattinata e nel pomeriggio questa probabilità di pioggia si abbasserà e anche nello spezzino al mattino prevediamo qualche acquazzone che però poi col passare delle ore anche qui tenderà piano piano ad allontanarsi. Giornata di martedì, giornata di festa all'insegna del sole sulla Liguria con temperature miti, massima anche oltre i 20 gradi, vi segnalo solo un minimo di instabilità nell'entroterra ma con fenomeni isolati. Per tutti gli dettagli sulle vostre località consultate l'app gratuita di Trebi Meteo.